Diffondiamo la bellezza perché l'idea alla base di quest'estate è che la città sia completamente riempita in tutta la sua geografia di eventi in tutti i territori della città. È una lezione che abbiamo imparato dal lockdown, quella di recuperare la cultura di prossimità, quindi gli eventi di quartiere, recuperare anche l'habitat del territorio in cui si vive. Per cui la città sarà disseminata di eventi, ce ne saranno tanti anche in periferia e sosteniamo la cultura. Sappiamo benissimo che i lavoratori e le lavoratrici della cultura e dello spettacolo sono stati uno dei comparti più colpiti dal lockdown, dalla pandemia. Le conseguenze economiche e sociali su quel comparto sono drammatiche. Con quest'estate proviamo ad arrivare capillarmente e a sostenerne quanto più possibile. È una scommessa che stamattina speriamo di aver vinto. Era veramente difficile. Protagonismo dei territori, trasversalità ed eterogeneità della proposta sono i principi ispiratori di un'estate a Napoli che fino ad ottobre porterà musica, teatro, danza e mostre in molti luoghi della città. Con un programma che nonostante le enormi difficoltà che sta vivendo il comparto della cultura e del turismo vuole mantenersi alto per dimostrare che proprio la cultura, oggi messa in secondo piano, può essere invece un segnale forte di entusiasmo e anche di ripresa economica. Un modo per dare sostegno al comparto, riaprire gli spazi, provocare socialità culturale in tutti i quartieri della città e rilanciare il turismo, con grandi eventi da svolgersi nel rispetto delle normative e ad ingresso gratuito. La pandemia ha dovuto rivoluzionare i programmi ma l'abbiamo mantenuta di alto livello. Quindi ancora una volta Napoli si conferma città della cultura, dell'arte, degli artisti disseminata in tutta la città. Questo è un altro obiettivo importante, in centro come in periferia, un cartellone importante che arriva fino a ottobre con artisti locali e anche di livello nazionale. I primi riscontri che abbiamo anche sulla rinascita culturale di Napoli sono significativi, basta vedere anche le grandi produzioni televisive e cinematografiche che sono ripartite soprattutto da Napoli. Sappiamo quanta economia può muovere la cultura, sia in termini di lavoro per tutto il mondo della cultura, sia in termini di attrattiva e quindi di una ripresa anche turistica nazionale e internazionale della nostra città. Fra i progetti sostenuti dal Comune troviamo le attività di San Domenico Piazza d'Arti, le iniziative culturali di Arterie, il premio Carosone, il festival Musica, Identità e Rivoluzione, restati a Napoli Teatro del Plebiscito e le mostre negli espazi espositivi comunali del PAN, di San Domenico Maggiore e di Castel dell'Ovo, tutto sotto lo slogan Sosteniamo la cultura, diffondiamo la bellezza. Arterie è la base della diffusione della bellezza, nel senso che il progetto su cui noi abbiamo fondato l'idea di diffondere in giro per i territori della città, per i quartieri della città, una programmazione che terrà dentro cinema, musica e teatro. Il progetto si divide in quattro lotti, uno prevede una programmazione teatrale al maschio angioino, il maschio angioino è da sempre il cuore pulsante dell'estate a Napoli per cui abbiamo voluto mantenere questa tradizione e non modificarla, e poi gli altri tre lotti, uno sull'area est, uno sull'area ovest, uno sull'area nord e l'area coordinare, vedranno una serie di rassegne e di eventi legati al cinema, alla musica e al teatro che si susseguiranno da fine luglio a praticamente la prima settimana di ottobre.